Non mi sapevo, ma non mi sapevo. Ma non mi sapevo. Tutti mi sapevano. Qui si usa il rego fa. Lo scende fa, che non si fa a metà. E qui non. Ma non mi sapevo. E qui non mi sapevo. Quindi, allora... E se bene a loro mette come si fa, lui ci ha metto come si fa, e lui fa. Se non capisco cosa cosa ha fatto, allora lui ci ha fatto, e lui ci ha fatto come si fa. E lui ci ha fatto come mano. Allora ci ha fatto il contatto. Perché non mi sapevamo quanto. Non mi sapevamo quanto. Non mi sapevamo. Ma io vi dico, la verità è come stanno le cose. Quindi noi già sappiamo quanto lavora. No, sicuramente, guardate. Se io metteria tutto quello che si dice, mi è già stato battito male. Non ti è scendere, non ti è scendere, non ti è scendere, non ti è scendere, non ti è scendere. Perché non è... Non è scendere, non è scendere. E lui è scendere, e lui è scendere. Alcune è la fatta da, perché è un problema, che non è scendere. E lui è scendere. E lui è scendere, e lui è scendere. E lui è scendere, a lui è scendere, ma parlare direttamente con voi. E lui è scendere, ma... Come stai? E che cosa non è possibile? E lui è scendere, e lui è giusto, no, lui è giusto per 2.000 euro. No, a 15. 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 A 16. A 15. A 15. A 15. Gli minimi fatti. Guardi i conti di materiale. No, a 15. A 22. A 12. A 12. A23. No, no, a 1000 euro e non ho a 125. mensen vittoria come fai? come fai? come si fai? mi ho fatto 100 mila euro non lo so non lo so non lo so assolutamente non lo sapete con il sindaco e riesce a lavorare extra e riesce a rire non lo so 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 se ti vede si parla ma si 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 C'è un'altra cosa, scusa, noi abbiamo detto questo, stiamo a cavallo, parliamo di chi è nato. Come se ti fai a mettere per lei, dicendo, io hai cantato, scusa, l'orito o quant'è? Sì, non vado a capire... ma non vado a capire, ma tu... allora... se hai nato... se hai nato, e te hai... se hai nato, hai vicino a te, tu e ti è calciato a bar, come tu lasciando... non paga, no? Va bene, tu dai, padre, per te... e poi vai a fallare, ok? Tu è nato tu, tu! Tu ce lo volo che a volte è un giorno! Tu! E noi devi essere nato, e adesso! Ma tu non vuoi lo volo di tu, ti puoi essere? Tu, tu... mi vuoi lo voli tu, tu guardi tu! spiegare la partita Allora mi mettiamo a andare dappola permesso andiamo a prendere la voce non inseriscono la via me ne sentiamo perchè hai sbagliato non sai come si è venuto non lo so ha sbagliato a come hai mannato ma come hai mannato Maga, maga manda, dimine. Maga manda.